Bene, ciao Marcello, è appena finita questa farsa con la F maiuscola di partita a Madrid dove chiaramente il risultato doveva essere uno solo, la qualificazione della squadra di casa. Non importa se la Juventus ha fatto praticamente una partita eccezionale, non importa se loro sono stati anche a lungo in balia, non importa niente, l'importante è sempre solo quello, io sinceramente sono abbastanza stufo di queste cose, devo dire la verità, se si vogliono giocare la Champions fra le spagnole, vinco io, vinci tu, vinci tu, vinco io, possono arrivare anche a 20 coppe una e 15 coppe l'altra, non me ne può fregare di meno, sinceramente è uno schifo, è uno schifo come uno schifo e l'espulsione di Buffon e Buffon, a mio parere, se il grande personaggio che è visto che ha fine carriera, mi auguro che vada davanti alle telecamere e finalmente dica a tutto il mondo lo schifo che ha vissuto in questa serata, perché è una cosa vergognosa, all'andata un arbitro vergognoso, al ritorno un arbitro vergognoso e non si può andare avanti così, caro signor Collina, lei che ci ha già fatto perdere uno scudetto pensando che si facesse una partita di pallanuoto mentre invece si giocava a calcio, lo sanno tutti nel mondo che odia la Juventus, ma non c'è bisogno però di continuare a incattivirsi così. Detto questo, adesso pensiamo al campionato, pensiamo alla Coppa Italia e cari signori, io la Champions League, le prossime due partite e la finale non la guardo, fatevi le partite vostre, vendeteli a peso d'oro la finale con i vostri sponsor di M perché a me non interessa più nulla, nulla del nulla, siete ridicoli, una federazione europea ridicola. Ciao a tutti.